Ciao a tutti, sono Matteo Maffessanti, sono un batterista e insegno per la scuola di musica moderna Joker Music. Questa mattina ho il piacere di presentarvi, di suonare con voi Quiet Tone, un pad di ultima generazione costruito da Sabian e presentato pochi giorni fa al Groove Day. Ok, la prima cosa che notiamo di questo fantastico pad sono sicuramente le dimensioni. Generalmente troviamo dei pad sul mercato da 12, 10, 8 pollici, questo è 14 pollici, quindi il diametro di un tradizionale rullante. Girandolo troviamo 4 supporti con dei speciali gommini che ci danno la possibilità di posizionare il nostro pad sulla pelle del rullante senza correre il rischio di segnarla. Andiamo a scoprire ora il rimbalzo e il suono di questo pad, con cordiera tesa. e la scoprire ora il rimbalzo e il rimbalzo e il rimbalzo e il rimbalzo e il rimbalzo. Andiamo a scoprire ora il rimbalzo e il rimbalzo e il rimbalzo e il rimbalzo e il rimbalzo. Un'altra cosa sicuramente molto importante è questo cerchio. Generalmente nei pad normali non lo troviamo, è un cerchio a tripla flangia che in realtà ci consente di giocare su rullanti e di ottenere i tradizionali suoni che otteniamo tipo il rimshot, quindi il classico colpo tra pelle e cerchio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.